Bonifica in via Roberto Il Guiscardo a Battipaglia, dove sono stati rimossi vari sacchi di spazzatura di ogni genere. Invece, tante le gomme di camion ed auto in via chiusa del bosco, anche qui super lavoro per rimuoverle e condurle in centri di smaltimento. Ed ancora in via Giusti, la presenza di contenitori di vernice e pezzi di ricambio per auto. Con un post su Facebook, la sindaca francese ha scritto Grazie agli operatori, anche in questo fine settimana è stata ripristinata la dignità e la pulizia di zone del territorio imbrattate dagli incivili. Il lavoro da fare è ancora tanto, soprattutto nella prevenzione e nella repressione dei reati ambientali. Per questo, conclude la sindaca, confidiamo nella preziosa collaborazione degli ispettori ambientali. Una richiesta arriva da Facebook alla prima cittadina. Sotto il suo post si legge Non si possono mettere due telecamere nella zona industriale tra Battipaglia e Eboli Quanta imbondizia abbandonata da gente senza scrupoli.